Riconosco, in fondo è soltanto una delle tante serie che finisce Ma che c'è sto pesce? Lo vedo muscio, ma ha mangiato? Secondo me ha fame, sto pesce ha fame, Alessio Fai il favore, vai al negozio qui all'angolo e compra super più E' l'unico mangime che Boris digerisce Orlando Serpentieri Maestro! Buonasera Ferretti Senta, allora vengo subito al dunque Qui stiamo girando la puntata conclusiva della serie E sono arrivati ordini dall'alto Vogliono che lei sopravviva Lei è molto protetto, lo sa? No, 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 ecco io la chiamo proprio a questo proposito Io gradirei morire Ma come scusi, non capisco La Rochelle qua sta muovendo mari e monti per poter sopravvivere E poi tenga presente che questa è una puntata che vedranno solo in Grecia No, per carità Ferretti, so benissimo come vanno queste serie Ricicciano, hanno sette vite Te le ritrovi la notte, te le ritrovi l'estate Guardi, per carità Ferretti, mi faccia morire Cioè, mi sta dicendo che lei vuole partecipare alla festa E saltare in aria con tutti gli altri No, ecco, a questo proposito Se posso chiedere una cosa Preferirei morire in solitudine Magari in carcere Maestro, non abbiamo soldi per girare altre scene, mi scusi Ma non c'è bisogno che la girate, basta che lo dite Il nonno Alberto si è suicidato in carcere Per rimorso Se ne è andato con dignità Ha giudicato Grazie, arrivederci Tante care cose Ferretti Grazie mille Grazie mille